Il settore edile vola, i bonus fiscali per l'edilizia spingono il settore a numeri mai visti da qualche decennio, ma gli infortuni crescono a un ritmo ancora maggiore e questo non è accettabile. Non possiamo sacrificare la vita e la sicurezza nel nome della ripresa. A dirlo è Simona Riccio, segretaria generale della Filca Cisle Toscana, a pochi giorni dal primo incidente mortale sul lavoro in Toscana accaduto in provincia di Arezzo. Per la morte di Francesco Brenda, 51 anni, padre di due figli, è stato iscritto nel registro degli indagati il titolare dell'azienda Antonio Mariotti, in cui Brenda era occupato. Risposte importanti arriveranno anche dall'esame autoptico sulla salma del 51enne. Si indaga per omicidio colposo, tra le ipotesi al vaglio c'è anche che l'uomo possa aver avuto un malore a causa del quale potrebbe essere caduto dentro al macchinario che frantuma inerti. L'uomo avrebbe fatto un volo di circa due metri a testa in giù. C'è anche la possibilità di un malfunzionamento del macchinario, in seguito al quale il 51enne potrebbe aver lasciato la postazione dove stava lavorando in sicurezza.